tutto sto sforzo per fare un passo e scendere per spezzare la mattinata cosa abbiamo deciso di fare un bel giro in pedalo e quindi adesso stiamo andando a ritirarlo che l'abbiamo prenotato e faremo tantissimi tutti quindi ci vediamo direttamente sopra il pedalo ciao fans siamo sul pedalò in realtà con la custodia impermeabile è sempre stesso problema che non so cosa si senta luna colombo pedala bella la vita l'altra volta che pedalavamo io e mech oggi pedaliamo prima abbiamo nuotato prima solo di braccio adesso sono di gambe luna colombo timona cane che di là devi andare cioè per andarla stiamo facendo così non puoi andare dritta siamo quasi arrivati eh sei pronto a tuffarti inizio io inizierò io vada non cincischi fai un piccolo tuffo non non spingerti molto no che poi ci ribalti cioè mi ribalti madonna signore it's your turn baby vai che il coraggio è una dote fondamentale con il cuscinetto ah da lì è da farla dal trampolino no già che la stai facendo ma dai buttati che morbido ma cos'era sta cagata luna colombo viene abbandonata in mezzo al mare chiamarlo tu mi sembra un insulto ti sei lanciato in qualche modo luna colombo si appresta a effettuare il tentativo numero due fallo da lì in alto che sennò neanche ti si vede avvicinati piano piano per non far rumore ti addormenti di sera ti risvegli col sole luna colombo fa la rana tutto sto sforzo per fare un passo e scendere stai calma più ti agiti più vai a fondo stai calma non è stato così tremendo e allora ora la stessa posizione è quasi scaduta adesso una colombo si esibirà in un altro vada vada non cincischi scavicchi ma non apra certo dall'alto da dove vuoi farlo siamo in attesa da qua si lo fa da su sei un cretino l'ora è finita riportiamo il petalo la giornata al mare è finita adesso torniamo verso casa e anche io guiderò la panda perché mica solo l'uno può guidare la panda perché è arrivato il permesso solo per questo sì sì allora quali sono le tue sensazioni fa un caldo della madonna questa è la sensazione principale siamo al mare siamo al mare è stato nuvoloso fino a due minuti fa siamo saliti in macchina a 40 gradi guarda le le nuvole bene ecco le le nuvole quindi anche questa sera si prevede in teoria non mette acqua no speriamo perché dobbiamo andare a cena in moto esatto e siamo all'aperto e siamo all'aperto ma se dovesse piovere uno c'è la protezione cosa fa? e la prende in culo ah wow bello a few moments later abbiamo dei problemi anche stasera l'hai gufata ha detto puoi vedere il tergicristallo? eh piove questo è quello che è successo guarda dai c'è un tergicristallo? mia oh è una setta eh non pulisce un calcio però va velocissimo e comunque male 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 non piove da marzo adesso ho due giorni di fila male 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 sei in pista? sono in pista mi sembra con in crystal con in crystal adesso tra poco ci sarà un percorso alternativo vai con l'enduro problemi qua senti proprio la mancanza dell'insonorizzazione ma è peggiorata mi sembra che sì mi sembrava così tremenda ieri mi sembra che è tutta l'acqua che ha fatto può essere che ha scavato ancora di più le muche eh sì eh madonna aveva stante strade alternative non fatelo a casa sì ma faccio qualche sgommata ma che sgommata? ho dietro un'altra panda rossa nuova però ah nuova sì non dà il brivido di questa bene siamo arrivati alla civiltà vai a casa? madonna comunque sembra ogni volta che si è per esplodere faccio esplodere tutto eh busta 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 veloce veloce calma 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 siamo quasi arrivati a casa niente avete visto avete visto aerosalazione guidando la banda del 97 in realtà ditelo che sono più brava io siamo arrivati a casa adesso spegniamo l'aria spegnere la recondizionata ok adesso entriamo in casa ci facciamo la doccia e vi facciamo vedere in che ristorante andiamo stasera bene fans ci siamo cambiati sono passate giusto quattro ore come vi avevamo detto in realtà anche se non sono quattro voi non lo saprete mai sei pronta? prontissima quindi saliamo in moto andiamo al ristorante in realtà adesso ci mettiamo le cose protettive e non è che andiamo così 15 minuti dopo ciao fans siamo arrivati nel nostro ristorante preferito in moto saccadria esatto che è a santa santa mariana varrese adesso entriamo e vi facciamo vedere che tavolo ci hanno riservato il migliore secondo me vai vieni una colonna al ristorante vuoi raccontarci qualcosa? e adesso mi berrò questa bella birra ghiacciata questa lascia anche i bassi eh oh nel mio ristorante preferito che bello due sere di fila sono arrivate le pizze puoi tagliare in cd cos'è il baglio della torta? si quella nuziale ma se Luna Colombo mangia il crema ma fatti 100.000 visualizzazioni Luna Colombo mangia la pizza quante ne fa? eh falla scoda Luna Colombo spegni spegniamo grazie eh ce n'abbiamo cenato vi abbiamo fatto vedere la nostra giornata tipo qua al mare tra l'altro c'è la luce arancione sembriamo arancioni ma non siamo arancioni niente speriamo che questo video vi sia piaciuto cosa devono fare? iscrivetevi al canale mettete la campanella e siete avvisati di tutti i nostri video ci vediamo al prossimo video che sarà un giro in moto ciao fatti 28 dicembre luna Colombo fa il bagno no non fai il bagno ormai l'ho annunciato cosa fai ti tiri indietro che bagno è fino a lì c'è il gradino sì 28 dicembre 2021 Sardegna o Gliastra un po' caldo e quindi ci sta un bagno frescante ma è fredda è proprio gelata non so come fa ti piace questa crioterapia gratuita? le gambe no è quando vai sotto con il tronco che si sente però vabbè penso proprio pezzo